Noi desidereremmo aprire i siti archeologici, ma si sa che ciò non dipende da noi. Purtroppo dobbiamo attenerci a quanto decide il Ministero, anche se vorremmo che gli enti preposti ci dessero la possibilità di aprire i siti e poter sviluppare all'interno di essi spettacoli e manifestazioni. Noi immaginiamo concerti all'aperto all'interno del sito di Pizzone, per cui saremmo disponibili a stilare convenzioni con tutti gli enti preposti affinché gli antichi luoghi possano essere fruibili e diventare strumenti per lo sviluppo turistico della città. Questo non dipende da noi, non dipende da me né dall'amministrazione, questo dipende dal Ministero. Fosse il Dio che il Ministero ci desse tutto questo se non l'onere della polizia. Sarebbe molto interessante all'interno di un progetto per l'estate fare concerti con la prevendita nella necropoli del Pizzone, sarebbe un ideale. Mi auguro che attraverso la sovrintendenza si possa aggiungere ad un accordo che sia un accordo di collaborazione fattiva, non di collaborazione passiva. La sovrintendenza mi auguro che sia disponibile. quella locale sicuramente sì, poi bisogna vedere quell'altra, quella provinciale e anche il Ministero che intende fare. Il 15 maggio scadono i finanziamenti per queste manifestazioni, perderli sarebbe un grave peccato, per cui attrezziamoci per questo. Ma qui ci vuole l'unità di collaborare. La politica, come si vede, per quello che sta succedendo a livello nazionale. Una scelta superiore è quasi nelle identiche situazioni nel livello nazionale.